Nel corso dei secoli abbiamo accumulato una quantità di conoscenze tale che gli scienziati riescono a padroneggiarne completamente solo una piccola parte. È necessario che si specializzino in un settore specifico e oggi esistono nuove branche che coprono questi settori specifici. Tra gli astronomi per esempio ci sono i cosmologi che sono specializzati nell'origine e nell'evoluzione dell'universo, i planetologi, esperti dei pianeti, gli astrofisici, esperti di fisica stellare e i fisici solari, tanto per nominarne alcuni. Lo stesso vale anche per tutte le altre scienze. Spesso per fare ricerca oggi sono necessarie attrezzature molto costose. Mentre Galileo poteva limitarsi a uscire di casa con un piccolo cannocchiale per scoprire le lune in orbita intorno a Giove, gli astronomi di oggi hanno bisogno di telescopi dotati di specchi che misurano fino a 10 metri situati in edifici provvisti di aria condizionata in alta montagna. Gli astronomi moderni usano strumenti che Galileo non poteva nemmeno immaginarsi. Pensa soltanto alle sonde spaziali che vengono inviate su pianeti lontani e ai telescopi spaziali che orbitano a chilometri di distanza dall'atmosfera terrestre. Quasi tutti gli scienziati oggi usano il computer. La matematica ha una grande parte nella ricerca scientifica e i computer risultano utilissimi poiché sono in grado di eseguire calcoli ad altissima velocità e non si stancano mai, a differenza degli uomini. Persino computer molto piccoli riescono a effettuare calcoli assolutamente impensabili per gli scienziati vissuti cent'anni fa. Molti tipi di ricerche che si svolgono oggi sarebbero stati irrealizzabili senza i computer. Dall'inizio degli anni 70 gli scienziati hanno cominciato a collegare i computer per mezzo di cavi costruendo la rete delle reti nota con il nome di internet. Con l'aiuto di internet gli scienziati di tutto il mondo possono inviarsi l'un l'altro test, immagini e altre informazioni scientifiche. In questo modo sono in grado di diffondere informazioni nel giro di qualche minuto. questo aspetto è particolarmente importante se si pensa che molti scienziati lavorano in gruppo. Un tempo era più facile che fossero dei tipi solitari come Galilei e Newton a fare delle grandi scoperte da soli. Al giorno d'oggi questo accade raramente. Molte delle questioni di cui si occupano gli scienziati sono semplicemente troppo complesse perché una sola persona riesca a trovare una risposta nel corso della sua vita. Spesso allo stesso problema lavorano gruppi di diverse centinaia di scienziati. I membri di un gruppo del genere possono benissimo abitare in paesi diversi. Le invenzioni moderne come internet, gli aerei, il telefono, il fax hanno fatto sì che la distanza abbia un significato sempre minore. Dunque dal tempo di Galilei molte cose sono cambiate. Tuttavia l'aspetto più importante è rimasto invariato. Gli scienziati sono ancora delle persone curiose che cercano di capire la realtà che li circonda. E per quanti raffinati strumenti e macchinari possano usare? Il cervello è ancora lo strumento più importante a loro disposizione. Perciò ci sono anche persone che trovano sia importante verificare in che modo gli scienziati utilizzino il loro cervello nella ricerca della verità. Come forse ricorderai la scienza e la filosofia si separarono nel settecento. Ma anche se i filosofi e gli scienziati non lavorano più con lo stesso metodo, non hanno smesso di interessarsi gli uni alle materie degli altri. Tra i filosofi è nata quella che chiamiamo filosofia della scienza o con la parola derivata dal greco epistemologia e cioè lo studio di come funzionano le diverse discipline scientifiche. Un filosofo della scienza studia in che modo ragionano gli scienziati quando sviluppano una teoria. Si occupa cioè della maniera in cui hanno origine le teorie e in che misura possono spiegare ciò che osserviamo in natura. Nelle primissime pagine di questo libro abbiamo detto di quanto fosse difficile fare affidamento sui nostri sensi. I filosofi della scienza sostengono che si tratta di un grosso problema per gli scienziati. Gran parte della ricerca scientifica ha infatti a che fare con lo studio della natura o l'osservazione di ciò che accade nel corso degli esperimenti e in questo caso è naturalmente importante poter fare affidamento su ciò che vediamo, udiamo e sentiamo. Ma gli scienziati sanno da tempo che i nostri sensi non funzionano come macchine. Naturalmente un occhio capta la luce più o meno come una videocamera e un orecchio può ricordare un microfono ma le somiglianze finiscono qui. Infatti quando i tuoi occhi e le tue orecchie captano i raggi luminosi e i suoni questi vengono inviati sotto forma di deboli segnali elettrici al tuo cervello. Una volta che raggiungono le zone cerebrali specifiche i segnali vengono rielaborati in modo tale da trasformarsi in suoni e immagini nella tua testa. In questo modo il cervello contribuisce a creare le immagini che vedi e i suoni che senti. Il problema è che oltre a questo con il cervello pensi, provi emozioni e fantastichi. Il cervello è in grado di creare immagini fantastiche molto vicine alla realtà. Pensa soltanto a quanto possono apparire reali i sogni. Il problema allora è in che modo il cervello può distinguere tra le immagini del mondo che ci circonda e le immagini prodotte dalla fantasia. E possiamo essere sicuri che la fantasia non si intrometta quando il cervello produce le immagini del mondo che ci circonda? I filosofi della scienza rispondono così alla seconda domanda. Non possiamo esserne certi. Capita che si usi la parola obiettività in relazione alla ricerca scientifica. Essere obiettivi significa mantenere la propria freddezza senza lasciarsi influenzare dai sentimenti. Ma questo è evidentemente impossibile. Dal momento che sei un essere umano proverai sempre qualcosa. Anche la curiosità che anima tutti gli scienziati è un sentimento. La ricerca scaturisce dunque da un sentimento e tutti gli scienziati provano qualcosa nei confronti delle loro teorie. Molti scienziati possono raccontare di come sia piacevole fare ricerca, di come si sentono emozionati quando intuiscono di trovarsi sulla strada giusta e della delusione quando si accorgono che non è così. Ciò che sappiamo adesso riguardo al funzionamento del cervello ci ha fatto capire che è impossibile essere completamente obiettivi. Quando uno scienziato deve fare degli esperimenti e osservare la natura spesso spera di vedere un determinato risultato. Se uno scienziato ha impiegato diversi anni per mettere a punto una teoria è naturale che desideri che l'esperimento ne dimostri l'esattezza. In certi casi lo si può desiderare tanto intensamente da vedere risultati che non ci sono. Esiste un esempio famoso di questo fenomeno nel campo dell'astronomia. Intorno al 1900 l'astronomo americano Percival Lowell stava studiando il pianeta Marte con il suo telescopio. Lowell era ricchissimo e si era costruito un osservatorio astronomico privato con i telescopi più potenti dell'epoca. Lowell era convintissimo che sul pianeta Marte ci fosse la vita, non era l'unico. L'idea che possa esserci la vita su altri pianeti risale a centinaia di anni fa e in quel periodo era molto popolare. Lowell aveva inoltre letto degli articoli di un astronomo italiano Giovanni Schiapparelli che diceva di aver visto lunghe linee sottili sulla superficie di Marte. Schiapparelli aveva chiamato quelle linee canali e pensava che potessero essersi formati naturalmente. Quando Lowell osservò Marte con il nuovo telescopio vide anche lui le linee sulla superficie. Ne vide anzi molte di più rispetto a quelle individuate da Schiapparelli. L'intero pianeta era coperto di linee orizzontali e verticali che parevano formare una sorta di disegno regolare. Al contrario di Schiapparelli Lowell era convinto che si trattasse di canali artificiali non troppo diversi da quelli che gli uomini scavavano sulla Terra. Una rete di canali come quella non poteva avere avuto origine naturalmente secondo Lowell. Doveva essere stato realizzato da esseri viventi dotati di intelligenza. Lowell scrisse diversi libri sulla sua teoria dei canali e sui marziani dotati di intelligenza. Nei libri faceva supposizioni sull'aspetto dei marziani e sul motivo per cui erano costretti a scavare canali su tutto il pianeta. Altri astronomi si interessarono alla scoperta di Lowell e puntarono i loro telescopi su Marte. In genere però avevano difficoltà a individuare i canali. Alcuni astronomi riuscirono a vederne qualcuno mentre altri non ne scorgevano nemmeno uno. Per anni andò avanti un dibattito tra i sostenitori e gli avversari della teoria dei canali di Lowell ma man mano che gli astronomi entravano in possesso di telescopi sempre più potenti diminuiva il numero di quelli che riuscivano a vedere i canali. La discussione si concluse una volta per tutte nel 1971 quando la sonda spaziale americana Mariner 9 giunse all'altezza di Marte e scattò migliaia di fotografie a distanza ravvicinata di tutto il pianeta. Le immagini mostrarono che su Marte non esisteva nemmeno un canale artificiale. Nel 1976 le due sonde spaziali Viking 1 e 2 atterrarono su Marte, scattarono foto della superficie e analizzarono il suolo per scoprire se c'erano segni di vita. Non se ne trovarono e le sonde fecero altre misurazioni che dimostrarono che le possibilità che ci fosse mai stata vita sul pianeta erano scarsissime. Come ha potuto Percival Lowell disegnare carte dettagliate di canali che non esistevano? Naturalmente è possibile che fosse tutto un inganno e che i canali fossero una trovata per attirare l'attenzione. Sono cose che succedono nella scienza così come in ogni altro ambito della società. Alcuni scienziati mentono sulle loro osservazioni per fare in modo che coincidano con la loro teoria. Gregor Mendel è probabilmente tra coloro che hanno dato una giustatina ai propri calcoli per farli tornare con la teoria. Ma nel caso di Percival Lowell è più probabile che abbia visto davvero qualcosa scambiandola per dei canali. La superficie di Marte è in effetti coperta di punti e chiazze. Nella realtà sono grossi crateri e zone desertiche. Sono stati svolti degli esperimenti che dimostrano che quando una persona osserva chiazze e puntini di questo genere attraverso un potente cannocchiale può accadere che veda delle linee sottili che collegano puntini e chiazze. Il cervello dà una mano e crea delle linee che non esistono. In questi casi si parla di illusione ottica. Se poi crediamo fortemente in qualcosa la fantasia gioca un ruolo determinante. Lowell era certo che su Marte ci fossero degli esseri viventi e desiderava esserne lo scopritore. Studiando Marte con il suo telescopio potrebbe avere lasciato che la sua fantasia facesse in modo di mostrargli ciò che lui voleva vedere più di ogni altra cosa dei segni di vita sulla superficie del pianeta. Forse penserai che Percival Lowell avesse una fantasia particolarmente vivace ma i poliziotti che si trovavano a dover interrogare i testimoni di un crimine probabilmente non si trovano d'accordo con te. Anche se i testimoni hanno assistito esattamente allo stesso crimine spesso raccontano versioni completamente differenti di ciò che è accaduto. Il fatto è che hanno vissuto lo stesso evento in modo diverso e tutti i testimoni sono convinti che sia la loro versione a essere corretta. Senza dubbio sei in grado di capire che questo rappresenta un problema per la scienza. Come possono gli scienziati confrontare le teorie con ciò che è osservabile in natura se ognuno percepisce la natura in modo diverso? È possibile portare avanti la ricerca della verità quando tutti noi abbiamo opinioni diverse di ciò che è la verità ed esiste in assoluto una verità da ricercare? I filosofi della scienza hanno opinioni diverse in proposito. Alcuni sostengono che è impossibile arrivare alla verità sulla natura e che tutte le idee relative ad essa sono interessanti. Per loro una fiaba è vera quanto la teoria della relatività. Altri filosofi non arrivano a tanto, credono che alcune teorie coincidano con la natura più di altre e che in questo caso possano essere considerate più vere, ma anche loro dubitano che esistano delle verità assolute da cercare. La maggior parte degli scienziati non è d'accordo. Gli scienziati sono infatti convinti che esistano realmente delle verità riguardo alla natura e che le teorie spieghino una parte di questa verità. In un certo senso è necessario che gli scienziati la pensino a questo modo, perché se tutte le idee sulla natura fossero ugualmente vere non avrebbe alcun senso mettere a punto nuove teorie. La convinzione che una teoria dica effettivamente qualcosa di vero sulla natura costituisce uno stimolo importante per gli scienziati. Gli scienziati sono anche convinti di avere trovato una buona soluzione al problema della diversa percezione della realtà. Una parte di questa soluzione si può ricavare dalla storia di Perceval Lowell. Sebbene Lowell infatti si fosse lasciato ingannare dalla propria fantasia, c'erano molti altri astronomi che non lo fecero. Dove Lowell vedeva dei canali diritti, loro vedevano solo chiazze e puntini. Questi astronomi dissero chiaramente che non erano riusciti a individuare i canali e in questo modo la teoria dei canali divenne problematica. Non fu mai accolta da molti astronomi e quando le immagini inviate dalle sonde spaziali vennero diffuse la teoria ricevette il colpo di grazia. Il fatto che altri scienziati debbano accettare una teoria è fondamentale. Non è sufficiente che uno scienziato affermi che una teoria è corretta. Deve essere approvata anche dal maggior numero possibile di scienziati. Perché gli scienziati possano determinare se una teoria è vera o no, prima di tutto è necessario che vengano a sapere della sua esistenza. Per questo nel corso dei secoli è stato sviluppato un sistema per assicurarsi che le nuove teorie vengano diffuse tra il maggior numero di scienziati. Fu al tempo di Isaac Newton che gli scienziati cominciarono a stampare le loro scoperte e teorie in atti di società scientifiche che venivano inviati alle università di tutta Europa e negli Stati Uniti. Oggi gli scienziati pubblicano i risultati delle loro ricerche su riviste scientifiche che rappresentano uno degli strumenti più importanti nella ricerca della verità. Esistono migliaia di riviste in tutti i settori scientifici per gli astronomi, geologi, chimici, biologi. Uno scienziato che desideri che le sue ricerche abbiano successo può soltanto sperare che una rivista accetti di pubblicare un articolo dove si illustrano le sue teorie. L'importanza di questo fatto è dimostrata dalla storia di Gregor Mendel. Non avendo potuto fare pubblicare i risultati delle sue ricerche in una rivista specializzata letta da molti biologi, dovettero passare 30 anni prima che qualcuno scoprisse ciò che aveva fatto. Un'intera disciplina scientifica, la genetica, subì un notevole ritardo per questa ragione. Quando l'articolo viene pubblicato altri scienziati hanno la possibilità di verificare se la teoria è giusta. Se sono stati fatti degli esperimenti altri scienziati possono ripeterli e vedere se ottengono gli stessi risultati. Il tutto è ancora più utile se la teoria contiene un'ipotesi su qualcosa che si verificherà facendo un esperimento. Fu ciò che accadde per la teoria della relatività di Einstein, che comprendeva tutta una serie di ipotesi, tra cui il fatto che all'approssimarsi della velocità della luce la massa degli oggetti aumenti. Fin da quando la teoria fu diffusa, scienziati di tutto il mondo hanno svolto esperimenti per verificare se le ipotesi coincidono con la realtà. Finora è sempre stato così. Quando il risultato di un esperimento coincide con quanto previsto dalla teoria, diciamo che l'esperimento conferma la teoria. Quando gli scienziati devono scegliere tra due diverse teorie, preferiranno quella che pone il maggior numero di ipotesi confermate. Può sembrare strano che uno scienziato voglia davvero impiegare del tempo a fare esperimenti relativi a una teoria che non ha messo a punto lui, ma gli scienziati hanno due buone ragioni per farlo. Possono ritenere che la teoria sia giusta, e in questo caso desiderano sostenerla, oppure possono essere sostenitori di un'altra teoria che intende spiegare lo stesso fenomeno. In questo caso vogliono tentare di dimostrare che lo scienziato non ha ragione dimostrando l'inesattezza della sua teoria. La scienza è impietosa nei confronti delle teorie. Se una teoria non coincide con esperimenti o osservazioni, non può essere accolta. Può anche succedere che sia stata confermata centinaia di volte, ma se salta fuori anche un solo esperimento che la contraddice, può essere necessario modificarla completamente o addirittura abbandonarla. A sfidare le vecchie teorie ne arrivano continuamente di nuove. Nella maggior parte dei casi sono queste ultime a perdere e finire nel dimenticatoio, ma ogni tanto ne salta fuori una in grado di spiegare un particolare che quella precedente non era riuscita a giustificare, o che presenta un'ipotesi che quella originaria non conteneva. Se la nuova teoria viene confermata da molte osservazioni e molti esperimenti, con il tempo sostituirà quella precedente. L'approvazione di una teoria può richiedere tempi molto lunghi, dal momento in cui Copernico mise a punto la sua teoria eliocentrica a quello in cui gli astronomi ne accettarono la validità, trascorsero moltissimi anni. Il fatto che le teorie siano costantemente in concorrenza reciproca e che quelle vecchie vengano sostituite da nuove è una caratteristica essenziale della scienza, ma a molte persone questo può apparire sconcertante. Può infatti sembrare che gli scienziati cambino continuamente idea. Un giorno uno scienziato dice una cosa e il giorno dopo un altro dice tutto il contrario. Quando la teoria di cui si discute ha a che fare con la vita e la salute, la discordia tra scienziati può apparire ancora più irritante. Prima che si scoprisse per esempio che le radiazioni radioattive emesse da una centrale nucleare sono nocive, tra gli scienziati si svolse una discussione serrata. Anche prima che si capisse esattamente in che modo la pericolosa malattia di nome AIDS si trasmette da una persona all'altra, tra gli scienziati regnavano opinioni contrastanti. Nel 1996 tra gli scienziati infuriò un dibattito sul fatto che la malattia bovina di nome BSE, chiamata anche malattia della muccapazza, potesse trasmettersi agli esseri umani che avessero consumato la carne di animali infetti. E le opinioni in questo caso furono molto contrastanti. Si tratta di una parte assolutamente naturale della ricerca della verità e in effetti è così che deve essere. Gli scienziati devono discutere tra di loro perché l'unico modo per distinguere tra le diverse teorie è individuare quella che meglio corrisponde alla realtà. In un certo senso questo costituisce un vantaggio. Infatti fino a quando la scienza continuerà a evolversi e le diverse teorie saranno in concorrenza tra di loro, ci sarà sempre la possibilità per i nuovi scienziati di dare il loro contributo. Tutti coloro che hanno l'interesse e le doti necessarie per dedicarsi alla ricerca scientifica avranno la possibilità di fare delle scoperte che modificheranno il nostro modo di vedere la natura o magari salveranno la vita di milioni di persone. Anche tu puoi partecipare se vuoi. Dato che sei arrivato fino a questo punto, senza stancarti, sei senz'altro dotato di una buona dose di curiosità per uno scienziato e un ottimo punto di partenza. Sebbene gli scienziati pensino che le verità più recenti siano migliori di quelle più antiche, sono in pochi a ritenere che siamo ormai giunti alle verità più giuste in assoluto. Ci sono alcuni scienziati che sostengono che ci troviamo ormai vicini a una risposta definitiva, all'eterno quesito sull'origine dell'universo. Sperano di mettere a punto una legge primordiale della natura che spieghi come ha avuto origine ogni cosa e mostri il collegamento tra tutti gli elementi della natura, ma la maggior parte di loro dubita che questo esperimento riuscirà e trovano che assomigli in modo sospetto alle convinzioni degli scienziati del secolo scorso sicuri di sapere ormai tutto ciò che c'era da sapere. Se c'è una cosa che dovremmo imparare è proprio che il modo di vedere la verità cambia continuamente. È difficile predire il futuro, ma di questo siamo certissimi. Molte delle teorie di cui abbiamo detto in questo libro appariranno un giorno altrettanto strane e antiquate di quanto appare a noi la concezione aristotelica del sistema solare. Forse non esiste una verità definitiva. Forse non diremo mai adesso abbiamo la risposta e possiamo smettere di cercare. Avremo teorie sempre nuove che spiegheranno sempre più aspetti dell'universo in cui viviamo, ma ogni volta che troveremo la risposta a una domanda ne salteranno fuori molte altre. Forse il nostro universo è fatto proprio così. Esiste un'infinità di misteri e ce ne sono alcuni a cui non troveremo mai una risposta sicura. In questo caso la ricerca della verità non avrà mai fine. Mi auguro davvero che sia così. Come scrisse il filosofo romano Seneca, nato nel IV secolo avanti Cristo e morto nel 65 dopo Cristo, molte cose che noi ignoriamo saranno conosciute dalla gente dell'evo futuro. Molto è riservato a generazioni ancora più lontane da noi nel tempo quando di noi anche il ricordo si sarà cancellato. Il mondo sarebbe una ben piccola cosa se in esso tutto il mondo non trovasse materia per le sue ricerche. Quante cose, oltre alle comete, percorrono strade recondite senza che l'occhio dell'uomo le veda mai sorgere.